Parte da oggi il Green Pass obbligatorio in Italia. Per tutti gli over 12 è necessario presentare il documento per entrare al cinema, al teatro, nei musei, per partecipare a sacre congressi e grandi eventi, per andare allo stadio e per mangiare nel locale al chiuso. Il pass si potrà visualizzare, scaricare e stampare attraverso diversi canali digitali, app e siti. La validità cambia, 9 mesi per chi ha completato il vaccino, 15 giorni dopo la prima dose per 48 ore dal tampone o infine 180 giorni per i guariti. Grazie